Buongiorno a tutti voi e buon 2020 a tutti coloro che ci seguono, a tutti i nostri lettori. Riprendiamo oggi la nostra rubrica video dedicata, come sapete, al commento di un fatto di politica scolastica rilevante e di attualità. Ovviamente il fatto di questi giorni è il cambio di guardia a Viale Trastevere, Fioramonti ha dato le dimissioni e all'istruzione arriverà la onorevole Lucia Azzolina del Movimento 5 Stelle. Ma la procedura per nominare Lucia Azzolina ministro dell'istruzione potrebbe essere un po' più lunga, un po' più complessa del previsto. Quando il 28 dicembre nel corso della conferenza stampa il presidente Conte aveva annunciato la decisione di dividere il MIUR in due ministeri, istruzione da una parte e università e ricerca dall'altro, sembrava che tutto fosse già sistemato e che sarebbe bastata la firma del presidente della Repubblica per formalizzare le nuove nomine, il nuovo assetto. Ma non è così. Intanto per creare il nuovo ministero dell'università sarà necessario un decreto legge, così come è già avvenuto in passato in casi analoghi. Nella migliore dell'ipotesi il decreto potrebbe essere approvato a fine settimana, ma poi per far sì che diventi esecutivo bisognerà attendere i tempi della pubblicazione nella gazzetta ufficiale. Fonti vicine al ministero ricordano anche che potrebbe essere necessario rivedere persino le ultime nomine dirigenziali fatte da Fioramonti. Quindi un rallentamento dell'attività amministrativa di qualche settimana sarebbe la logica conseguenza del cambio di guardia a Viale Trastevere. D'altronde, non a caso, sempre stando alle nostre fonti, il Partito Democratico avrebbe accettato con favore la soluzione di assegnare l'istruzione ad una esponente di punta del Movimento 5 Stelle, perché è ormai chiaro che governare il sistema scolastico nazionale viene considerata una missione pressoché impossibile. In effetti i problemi che dovrà affrontare l'onorevole Lucia Zurina sono tanti e tutti quanti molto difficili. Come prima cosa ci sarà da avviare le procedure per i concorsi straordinari e ordinari con tutti i problemi connessi, a partire dal reperimento di commissari d'esame sempre meno disponibili a lavorare per una manciata di euro. Senza dimenticare poi alcune battaglie storiche del Movimento 5 Stelle e della onorevole Lucia Zurina in particolare, dalla cancellazione delle classi pollaio fino alla abolizione delle prove invalsi. Il nodo più difficile e più grosso riguarda però quello del rinnovo contrattuale. La legge di bilancio mette in campo pochi soldi e non si capisce davvero come si potrà anche soltanto dare avvio alla operazione stipendi europei. E visto che si parlerà anche di contratto e valorizzazione della professionalità docente, la nuova ministra potrebbe anche occuparsi di una questione storica, cioè quella dello sviluppo di carriera del personale docente. Forse Lucia Azzolina potrebbe provare a legare il suo nome all'avvio di un disegno di legge che apra ad un nuovo stato giuridico del personale docente che preveda a sua volta una progressione di carriera legata non solo all'anzianità ma anche ad altri parametri. Non sarebbe una operazione molto facile ma perlomeno potrebbe provarci. Su questo tema noi continueremo ovviamente a tenervi informati quindi continuate a seguirci su questo canale, continuate a leggerci e continuate anche a scriverci grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.